spero che sia corretto ma Carlo deve averlo scoperto ecco perché ha avuto la pistola la notte del suicidio Carlo deve essere uscito di casa per aver scoperto il suo amico e poi sono sempre trattato per cui si può accendere grazie insieme però di Carlo trovo la domanda era dei complici che avevano scoperto erano finiti e avevano ucciso il padre perché forse c'è stata ricordata chi sono gli stessi che hanno trovato una zanata nuova facciamo l'identifizio di Carlo non sei notte le caserne e stai venendo facendo e poi ragazzi scusate scusate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti